Realizzato da Saber Interactive, Inversion è uno sparatutto in terza persona apparentemente come tanti, ma oltre le coperture c'è molto altro. C'è un nemico dietro un muretto impossibile da colpire? Perché non invertire la gravità facendolo galleggiare in aria? Quel nemico corazzato è impenetrabile ai nostri proiettili? Raccogliamo una macchina e scagliamogliela contro. Insomma con Inversion ci siamo fatti i beffe di Isaac Newton e questa è la nostra video recensione. David Russell è un poliziotto di quelli duri e sta per morire per mano di sanguinari assassini chiamati Lutador. Chi è questa misteriosa Barbara razza aliena? Da dove proviene? E come riesce ad alterare la gravità? Ma soprattutto, dove è finita sua figlia? Questo a grosse linee è l'incipit di Inversion, il nuovo sparatutto in terza persona prodotto da Saber Interactive, software house russa conosciuta soprattutto per il controverso Time Shift. L'idea è quella di portare le meccaniche rodate dello sparatutto in terza persona verso nuove soluzioni, con l'utilizzo strategico della fisica. Inversion è uno shooter ad alta spettacolarità, sul modello di Gears of War, una scelta questa sin troppo parese visto che ci troviamo davanti ad un clone quasi indistinguibile, con lo stesso impatto super macho, con nuovi personaggi nerburuti e massicci armi esagerate, ed una caratterizzazione generale sgarbata e ruvida. Per fortuna c'è la fisica ad imprimere una svolta al titolo. Dopo poche ore di gioco, infatti, due protagonisti, David e Lio, acquisiscono delle speciali attrezzature in grado di alterare la gravità, per spostare determinati oggetti o per lanciare le carcasse di vetture sulle teste di nemici, senza dimenticare la possibilità di scaraventare gli avversari in aria per poi colpirli in tutta calma. Oltre a questo il gioco presenta delle parti speciali a gravità zero ed altre addirittura ambientate su piani ribaltati davvero spettacolari. Purtroppo però questi momenti sono vincolati a sezioni circoscritte che rendono l'esperienza rigida e a compartimenti stagni. Cyber Interactive è riuscita a conferire al suo lavoro la sensazione di un'esperienza carica di mistero, anche se si avverte la scredevole sensazione che non ci sia alcuna storia da raccontare a causa della situazione piuttosto ridicola che culmina in un colpo di scena finale veramente ai confini della realtà. Bisogna comunque ammettere che le otto ore della campagna di Inversion riescono a intrattenere per diversi motivi. In primis grazie alla costruzione dei livelli piuttosto vari e ricchi di situazioni che richiedono approcci diversi, ma anche per i numerosi scontri con i boss spettacolari e davvero impegnativi che ci costringono a numerosi tentativi prima di poterli abbattere. Ma quando questo accadrà sarà una vera soddisfazione. In Inversion si muore parecchio, anche a livello di difficoltà minimo, ma la perseveranza viene sempre premiata. Il problema principale è rappresentato dagli scarsi valori di produzione che si ripercuotono inesorabilmente nel prodotto. L'esaltazione per ogni nuova idea buttata in campo viene ridimensionata dall'impossibilità di esprimerla al meglio. Tutto dall'impressione di essere sin troppo scriptato e precalcolato. Non è piacevole passare attraverso delle stanze che si distruggono progressivamente per poi scoprire che non è possibile neanche scalfire un vaso quando l'azione non è prevista dal codice di gioco. Questa è una problematica comune in questa generazione dove le limitazioni hardware si fanno sentire, ma nell'opera Saber Interactive tutta l'impalcatura espone eccessivamente le meccaniche precalcolate. Le trovate più rivoluzionarie finiscono quindi per diventare piccole parentesi ripetitive che avrebbero potuto avere un impatto ben diverso sul level design se il giocatore fosse stato in grado di ribaltare il terreno a piacimento. Alla fine dei conti le parti più riuscite sono quelle dello sparatutto classico che si esprime attraverso le rodate dinamiche di copertura già viste all'ostinimento da Gears of War in poi. A livello tecnico l'Unreal Engine non è certamente al suo apice e si mette in mezzo anche nel limitare quel dinamismo palesemente ricercato dai programmatori. L'appetibilità degli scenari è inesistente con strutture anonime, nemici insipidi, incapaci di attirare l'attenzione dello spettatore, così come i due protagonisti che finiscono per essere la brutta copia dei ben più celebri Marcos Fenix e Dominic Santiago. Il tutto si attesta su livelli medi e il problema principale è che traspare l'aspetto derivativo e anonimo di ogni singola componente del gioco. Inversion è uno sparatutto che soffre gli scarsi valori di produzione e le limitazioni tecniche di questa generazione, con una serie di idee che quasi mai riescono ad esprimersi pienamente. Cyber Interactive ce la mette davvero tutta, ma i risultati non si discostano troppo dal precedente timeshift. Quello che rimane dopo l'effimero senso di novità è un clone piacevole di Gears of War, spesso ai limiti del plagio, con qualche trovata narrativa più sagace del solito che cerca di celare fino all'ultimo una storia alquanto assurda. Il gioco comunque nella sua essenza funziona, proponendo scontri concitati e sempre vari, lungo le otto ore della campagna da affrontare da soli o con un amico. È insomma il classico prodotto di serie B che potrebbe vivere una seconda giovinezza nel mercato di seconda mano o a prezzo stracciato in qualche cesto da grande distribuzione. Grazie a tutti! Grazie a tutti.